Si sentono oramai abbandonati i residenti del centralissimo quartiere di Santa Maria Bitetto a Teramo, minacciati a loro dire dal pericolo di crollo dell'edificio privato in via Largo Paris. Struttura che versa in condizioni patiscenti e minaccia a detta del comitato quotidianamente l'incolumità dei passanti e dei residenti. Le prime chiusure di via Muzzi e Vico del Cigno, le due vie a ridosso del palazzo, sono state disposte dall'amministrazione comunale nel 2014, mentre le ultime interdizioni all'accesso circa un mese fa, per cui sono già anni che la cittadinanza sopporta continuamente i disagi. Per questo motivo i residenti chiedono con assoluta urgenza interventi risolutivi attraverso rimedi legislativi previsti dalla vigente normativa. Nell'ultimo periodo il sindaco di Teramo è venuto perché sono successe delle cose molto gravi, sono rintervenuti i vigili del fuoco perché sono caduti dei calcinacci, anche dei pezzi di muro, quindi la situazione è stata veramente preoccupante, tant'è che hanno richiuso la strada e quindi il sindaco si è reso forse conto e ha fatto un'ordinanza alla bufera di rimettere a posto un po' la situazione anche nella sicurezza, nel pulire la zona, anche se c'è da dire che questa ordinanza è un po' anomala perché non è questione di pulire, lì è questione di demolire. Però diciamo che la situazione, più di 20 giorni fa il sindaco ha fatto questa ordinanza di rimessa a posto della situazione, la bufera non ha fatto niente, non è stata fatta niente, la situazione è come prima, più di prima, peggio di prima. Siamo ancora più amareggiati perché abbiamo sentito che c'è stata delle dichiarazioni rilasciate dalla bufera che sarebbero intervenuti nel pulire la zona adiacente a via Muzzi e via Vico del Cigno, avrebbero tagliato l'erba, avrebbero tagliato qualche pianta, cioè sentire queste cose ci fa ancora più male perché lì non è questione di tagliare l'erba, passare il trattorino e quant'altro, lì è questione di demolizione perché la situazione è drammatica, sta per crollare anche una grondaia, quindi stiamo parlando di cose fuori dal mondo, quando succederà qualcosa di grave e serio forse, forse lì interverrà.